Bella a tutti ragazzi, bentornati su KinoDV e a grande, anzi grandissima richiesta, oggi contest sul BoboCut Bella rega, allora, com'è andato il vostro lunedì? Spero tutto bene, come al solito siamo sul mio canale ritrovati con un nuovo contest L'avete chiesto voi, come avete visto dai commenti, sono andato a cercarmeli in un video apposta dove l'avevo chiesto appunto E ne avevo già fatte due, avevate chiesto prima la macchina da scrivere e avevamo già fatto il contest E ora lo facciamo sul Bobcat, come vedete me lo sto portando già al 130 E andremo insieme subito a cambiargli anche le perk Allora, intanto che li potenzio anche i vantaggi vi spiego come gliele andrò a fare Partiamo dal presupposto che io voglio tenere le armi così come madre Epic le ha create Nel senso che andrò a mettergli tutte le perk di danno possibile Quindi so già che praticamente non avrò un caricatore capiente capiente così come il Bobcat è stato progettato in battaglia reale diciamo Ma avrò un caricatore normale, forse anche meno dello scar potenziato col caricatore Quindi avremo intorno ai 50 colpi se non sbaglio E andremo a mettergli una perk di livello, una perk di danno critico ovviamente e una di danni normali Io lo otterrei così per il momento Sono indeciso se lasciarlo fisico o portarlo ad energia Per il momento lo lascio fisico Vedrò, vedrò, vedrò nei prossimi giorni Allora vi avviso già che l'ultima perk ovviamente va in base all'ultima quella scritta A me sul Bobcat penso che sia predisposta Quindi il danno inflitto con quest'arma rallenta Andiamo a mettergli danni e bersagli rallentati Adesso viene la parte dimostrativa raga Ovvero andremo a craftare un Bobcat nuovo Come al solito E lo andremo a provare insieme Così cogliamo l'occasione anche per fare un review sull'arma Io premetto che l'ho già provata molto Prima di questo video Quindi so già cosa aspettarmi Ma nessuno credo me l'abbia mai droppata con le perk Che appunto piacciono a me Come le avrei predisposte io diciamo Vediamo E' bello veloce a sparare Cadenza di tiro come la battaglia reale Ok Voglio provare a trinciarli tutti con quest'arma Beh abbastanza easy Non ho compagni Nessuno mi sta boostando come al solito Sono da solo quindi Il danno che faccio è il danno puro Probabilmente con qualcun altro in team Farei ancora più male Secondo accampamento raga Incrementa la difficoltà Ce lo proviamo a fare anche questo solamente col bobcat Andiamo voglio provare qualcosa Voglio provare qualcosa di un po' diverso Tipo alla call of duty diciamo Tutti che mi inseguono Ok però se mi colpiscono mi rallentano Piccoletti Venite qua piccoletti Lo sapete cosa mi ricordavano Tutti questi ammucchiati comunque No vabbè raga A parte gli scherzi Mi piace E' stra divertente questa Guarda come li trincio tutti Guarda come li trincio Tutti i critici sono i colpi Tutto giallo Qualche numeretto bianco Ma proprio A me piacciono i numeretti gialli Ok raga Sento respirare È normale direte voi Ma a me Mi è sembrato di vedere uno smasher Quindi provare a seccarmelo col bobcat Però c'è sempre i suoi scagnozzini qua Ah beh ce l'ho fatta dai Pensavo a un punto di non farcela GG GG Ok sinceramente raga L'arma è molto buona Non me l'aspettavo Fino a questo punto Sinceramente Non me l'aspettavo buona Fino a questo punto diciamo Tutto sommato direi che Ne è valsa la pena Tirarlo su E vorrei farla provare Ovviamente a 5 di voi Quindi Nei commenti ovviamente Scrivetemi il vostro ID Sceglierò totalmente a caso 5 persone Per ricevere questo bobcat Non dimenticatevi che se volete Potete seguirmi su Instagram All'indirizzo KinoTVOfficial Tutto attaccato Bella raga Ci vediamo domani Con un nuovissimo video Grazie a tutti Ciao Ciao Ciao